Desiderio incompatibile col nostro, invece noi vorremmo che si tornasse al voto nel più rapido tempo possibile. Io credo che, però bisogna riconoscere, non so se Berlusconi si vorrà ancora candidare, credo che si debba guardare avanti nella vita e mai indietro. Io riscontro un fatto però, che due anni e mezzo fa la Lega era al 3%, eravamo sulla soglia di crisi clamorosa. Come devo chiudere? Tra Maroni e Salvini ci sono un po' di attriti? Assolutamente no, ma tutte queste situazioni qui vengono poi evidentemente enfatizzate quando la Lega torna ad essere baricentrica. La Stambe e Medi Comunicazione lo fanno apposta. Assolutamente sì, entrambi hanno due desideri, vincere Milano, perché Milano è una grande città, e andare al voto nazionale il più possibile, il più presto possibile. Il governo Lorenzi nel più rapido tempo possibile e creare un'alternativa credibile che credo Matteo Salvini possa rappresentare in maniera assolutamente bellissima.